Oggi siamo a Costigliole d'Asti, esattamente in frazione Motta. Siamo in una delle più fiorenti aziende agricole orticole e ad aspettarci proprio dentro questa serra c'è Scanavino Igino, alla terza generazione. Buongiorno, cosa stai facendo? Sto solo controllando se sono già adatti alla vendita o meno, ma ci va ancora un 15 giorni. Allora, dicevamo che tu sei alla terza generazione, un'azienda professionale orticola. Quali sono le produzioni? Le produzioni principali sono sedano, bianco e verde, e il cardogobbo d'inverno. Poi in mezzo ci sono i peperoni, che una volta erano la specialità di questo posto, che adesso sono mancate le generazioni, non c'è più un ricambio generazionale. Ecco, coltivi tutto in serra, in una parte scoperto? No, in primavera, in autunno, in serra, in piena estate, in pieno campo proprio. Diciamo da giugno a ottobre in pieno campo. Allora, al di là di quelli che sono i cambiamenti climatici, che torniamo sempre a dire che sicuramente costituiscono un problema a tutto tondo per l'agricoltura, quali sono le minacce che interessano maggiormente questo tipo di coltivazione? Allora, la minaccia principale per quanto riguarda il peperone sono le malattie fungine che attaccano le radici. Per quanto riguarda il sedano, adesso non quest'anno perché il clima è stato molto mite, ma gli altri anni che in questo periodo faceva bello caldo, la minaccia principale era il marciume della parte centrale del sedano. Il troppo caldo faceva marcire e partiva quasi tutta la serra. Quasi tutta la serra. Questo è un grosso danno, insomma, visto che la vostra attività è questa. Qual è il mercato vostro dove vendete i vostri prodotti? Ma il mercato dove io porto tutto, diciamoci, è a Torino, in mercati generali. Un'azienda che dicevamo è la terza generazione, ma che guarda anche tanto alla sostenibilità ambientale. Proprio qui a Motta, IGINO ha avviato, in collaborazione con l'Università di Torino, un progetto sperimentale di solarizzazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. In realtà la solarizzazione esiste già dal 1976, ma qui a Motta, nel comune di Costigliole, l'azienda di IGINO sta sperimentando una miglioria. Andiamo a scoprirla con Vladimiro Guarnaccia. Allora, sappiamo che è una novità. Un progetto pilota riguarda solo la provincia di Asti, nella fattispecie, questo areale qua. Di che cosa si tratta e che tipo di progetto è? Chi sono i partner? Allora, noi stiamo lavorando nell'ambito del Centro Nazionale Agritec, quindi siamo nell'ambito del PNRR. È un progetto a livello nazionale che coinvolge diverse sedi. Come Università di Torino è il Dipartimento di Scienza Agraria e Forestale e Alimentaria, insieme a tanti altri colleghi, siamo inseriti in uno SPOC in cui lavoriamo per la difesa e la protezione delle piante. In questo caso, soprattutto in collaborazione con il CREA Caserta, lavoriamo su mezzi fisici che possano andare a sostituire o quantomeno a limitare l'utilizzo chimico, di sintesi. Noi lavoriamo con solarizzazione, la solarizzazione è nota da tanti anni, però negli ultimi anni è potuto ricevere, diciamo, subire alcuni miglioramenti nelle tecnologie. Ecco, ma spieghiamo, la solarizzazione serve a? La solarizzazione ha questo obiettivo di andare a lavorare per ridurre la presenza di inoculi fungini, per esempio, tra le tante, si potrebbe lavorare anche con erbe infestanti, con nematodi. Nel nostro caso andiamo a valutare la presenza di inoculi fungini che vivono nel suolo, quindi patogeni tellurici. L'anno scorso abbiamo potuto lavorare insieme a Fondazione Agrion per la fragola, quest'anno lavoriamo per il peperone, per valutare l'efficacia di questa tecnica di solarizzazione migliorata nei confronti di una delle malattie principali del peperone, la cancrena pedale causata da un'omiceta. Allora Antonio, siamo proprio nel tunnel di sperimentazione e nella fattispecie questa è una parcella interessata dalla miglioria. Di che cosa parliamo? La vera novità sta nell'utilizzare un film plastico differente che ha una capacità migliore. Possiamo già osservare come il classico polietilene abbia una maggiore quantità di condensa. Noi abbiamo coperto poche ore fa rispetto al polisolar, appunto questo film plastico innovativo che migliora sicuramente la trasmissione del calore all'interno del suolo. In più viene utilizzato un carbone vegetale che viene utilizzato per ricoprire la superficie del suolo. Andiamo quasi a dipingere nel vero senso della parola perché creiamo uno strato molto sottile. Qual è il principio attivo? Come agisce il carbone vegetale? Il carbone vegetale riesce semplicemente ad attrarre, chiaramente con le sue capacità anche per il suo colore, ad attrarre maggiormente il calore e trasmette sicuramente meglio il calore nei primi centimetri che sono quelli che ci interessano perché andiamo ad avere la presenza degli inoculi fungini e comunque dei patogeni in senso ampio in quel primo strato. Una cosa importante è quella di andare a valutare anche l'effetto sui non target, quindi noi con le nostre analisi molecolari che verranno effettuate in un tempo successivo andiamo a valutare anche quanto e se in qualche modo subiscono delle variazioni le comunità di microrganismi che risiedono nel suolo ma che non hanno alcun ruolo nello sviluppo di malattie delle piante. Quindi abbiamo passato questo carbone vegetale, si è coperto con questo film, dopodiché verrà monitorato costantemente anche da remoto e per quanto tempo dovrà restare in questa condizione prima che il Gino possa tornare a coltivare? Noi possiamo controllare appunto il remoto o semplicemente collegando il nostro computer a una centralina le temperature ma più che altro la somma delle temperature che superano i 38 gradi. Riusciamo a renderci conto quindi esattamente del momento in cui possiamo già eliminare le coperture. Diciamo che il vantaggio per noi in Piemonte è quello di fare qualcosa che fino a qualche anno fa non poteva nemmeno essere fatto proprio perché stiamo riuscendo ad aumentare le temperature del suolo. Secondo quello che abbiamo già osservato l'anno scorso in un periodo di 30 giorni possiamo andare a eliminare le coperture. in Sud Italia diventa un vantaggio quello anche di addirittura accorciare questi tempi. La solarizzazione secondo questa nuova tecnica consente una sostenibilità ambientale perché non vengono più utilizzati dei prodotti chimici di sintesi che vanno ad impattare nell'ambiente. Non è il loro caso questo averifica ma anche riduce la nascita e lo sviluppo delle erbe infestanti ma possiamo parlare anche di sostenibilità economica quanto impatta su un'azienda questo tipo di intervento? Sicuramente l'impatto potrà essere valutato più avanti anche da un punto di vista di costi da affrontare per trattamenti trattamenti che possono essere ridotti se non eliminati soprattutto nei confronti di alcuni target come alcuni patogeni. Torneremo a ricontrollare tra un mese grazie alla Coldiretti e Antonio Bagnulo che quindi è il responsabile tecnico che ci ha introdotto questa novità progetto pilota nell'Astigiano e che speriamo verrà replicato in altre superfici coltivate.